Foto gentilmente offerta da ufficio stampa come una madre anticipazioni 9 febbraio come una madre la trama della fiction con Vanessa incontrada la fiction con Vanessa incontrada come una madre è partita dal vivo della vicenda e ha avverto subito al telespettatore numerosi colpi di scena prima di darvi le anticipazioni sulla seconda puntata permetteteci di ricordarvi la trama generale della fiction la storia parla di Angela assistente sociale che si trova coinvolta nelle indagini sull'omicidio di Elena sua vicina di casa che prima di morire le ha affidato i figli in realtà la donna è innocente ma è stata incastrata da un piano erdito da Massimo un agente segreto che pare aver organizzato anche l'assassinio di Elena sfruttando un appuntamento che quest'ultima aveva fissato con Kim uomo misterioso che aiuterà Angela nel corso della sua fuga dagli assassini e dalla giustizia veniamo ora alle anticipazioni come una madre trama seconda puntata cosa succederà la prossima puntata nella seconda puntata di come una madre vedremo Angela conoscere meglio Bruno e Valentina i figli di Elena l'assistente sociale cercherà di raggiungere Roma SMA e due provando a seminare gli inseguitori che non si daranno pace fin quando non l'avranno trovata numerosi saranno i pericoli che dovrà superare e che metteranno a rischio la vita di tutti pericoli che al tempo stesso le permetteranno di avvicinarsi di più ai due piccoli e che la aiuteranno a contare la propria storia e a ricordare il figlio Matteo repliche come una madre cos'è successo e dove rivedere le puntate della fiction per rivedere le puntate di come una madre non dovrete far altro che collegarvi con il vostro smartphone tablet o pc o se l'avete anche con uno smart tv a rai play app ufficiale rai che vi permetterà di guardare on demand qualsiasi fiction già andata in onda la seconda puntata sarà trasmessa il 9 febbraio buona visione